Ania nell'ultimo messaggio diceva di essere sul punto di smascherarlo, ma poi è morta in un incidente d'auto. Il traditore l'ha messa a tacere. Mi servono dei nomi. Chi c'è sulla tua lista? Se te lo dico, coso è in cambio. L'hanno mandata dal dipartimento? In realtà è solo una copertura. Per nascondere cosa? Chi è? Oh beh, Rita è moltissime cose, e tra le tante è anche la tua matrigna. Mi sta aiutando a dare la caccia all'Oxat. Io... io volevo dirtelo, ma poi... Fammi indovinare. Non me l'hai detto perché volevi proteggermi. Mi dispiace tanto. Ormai è una scusa vecchia, Beckett. Lo so, ormai è davvero... Vecchia. Terribilmente vecchia. E come? Castle, hai assolutamente ragione. Ah, certo. Aspetta, ma... Di che parli? Su cosa ho ragione? Ho ragione. Ciao. Ciao.